Ehi la giurma io sono Mattia Tess e ben ritrovati dove ci eravamo lasciati lo scorso episodio allora cosa facciamo qua hanno parecchia gente io direi che proviamo con la tecnica del seccare tutti se possibile allora quindi tu vai a caricare qua con questo spariamo qui che si picchieranno verosimilmente voi qua e voi qua e vediamo un po se riusciamo a questo tra l'altro è un blueprint che ci manca disattiva 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 ora si stanno picchiando per bene uno è già quasi morto allora direi però che prova a sparare a quello visto che è quello che sta andando pazzo ah ci sono gli alifron che stanno arrivando allora momentaneamente interromperei interromperei gli spari target lost perchè uno è morto ok gli direi gli direi spara questo allora tu vai contro l'alifron così almeno l'altro si libera il prima possibile quanti alifron sono? due allora tu torna a occuparti no aspetta tu curati e tu torna a occuparti di quello così me ne siamo ah uno è morto chi è che ha messo male? lui oh allora disattiva vai qua tu ripara la falla ok un altro è andato vai su questo e tu vai sempre su dai spari di croce l'ha seccato ottimo su questo ok adesso vai qua please cercano di venerci addosso no avrei dovuto sparare qua però vedete che la tecnica sta abbastanza funzionando andato allora spara quello e tu spara questo allora adesso se cercano di rientrarsi là dobbiamo stanarli da quella posizione devo creare un'altra parola volatale vai come fanno a venireci addosso se non c'è nessuno che comanda scusatemi allora facciamo che saltarli addosso e seccarlo va un bel colpo ok data abbiamo preso anche il blueprint abbiamo perso abbastanza di scafo in realtà però ci sta abbiamo guardato di più di quanto non avremmo potuto guadagnare altrimenti allora qua non possiamo fermarci anzi questo adesso è tutto sotto controllo del culto brutta storia allora là sotto c'è una campana ma non so se vi come si dai proviamo a prendere la campana tanto teoricamente siamo vicino a delle acque salve cioè c'è una campana in cui c'è un captain's log qua meno 20 cavolo brutta storia e no non passare là in mezzo guarda mannaggia te ma dove dobbiamo andare più che altro adesso prevent ma ok dobbiamo andare là sotto ci sparano sempre nei punti più lontani del mondo da andare a fare delle robe a caso ma qua sotto c'era il porto se non ricordo male così andiamo a ripararci tranquilli dovremmo pagare meno di 52 mi auguro se paghiamo più di 52 vabbè ci sta c'è altra roba da fare qua ah c'è un ripara scaffolo là sotto non so se è uno di quelli gratis o a pagamento ma no è uno di quelli gratis a posto buono così andiamo a pagare di meno di sicuro ah del pesce vai al pesce buono e eccoci qua allora paff riparare tutto e allora fast travel dove ci conviene andare ah qua c'è un porto ma in mano ai coltisti è l'unico che possiamo fare si dal qua avvicinarci un poco allora vediamo se c'è qualcosa di avvincente niente di che una nave affondata una scialuppa ma chi se ne frega andiamo dove 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 scendere lo scendiamo non è che siamo così poveri o così con poco pesce da dover andare a raccimolare in giro ciò che andare in giù è buono no dove no dove dovevamo andare a sinistra allora errore mio eravamo già giusti ma mi è tratto in inganno allora no là c'è una nave non prendiamo una nave perché potrebbe essere un rischio allora qui c'è qualcosa di avvincente c'è un porto in fiamme e nulla due cose del culto nulla di che potremmo liberarlo ma non ha tutto sto gran che di senso pensavo che liberarlo rendesse disponibili i porti in fiamme ma invece no rimangono in fiamme comunque sono distrutti per sempre penso allora andiamo giù sotto ed è già direttamente qua l'evento allora si è arrivato appena in tempo ci sono molte navi che circondano lo slumbering giant devi distruggerle tutte prima che possano mettere la devil rock ok c'è un no non c'è un faro qua quindi dobbiamo farcela tutta a piedi diciamo diciamo ok allora là ce n'è una ok ottima la sono due saranno tutte intorno verosimilmente tre e poi ci sarà quella definitiva probabilmente allora qua c'è una nave del pesce parico il pesce ci sta c'è che picchiare questa dai picchiamo questa iniziamo con questa vai sperando in bene allora facciamo tattica dell'affondare che in genere mi risparmia lo scafo allora voi andate qua voi su questo voi su questo tu inizia a dare una mano a questi qua ciò che io ho uno soltanto poi vediamo un attimo se bisogna di dare una mano a riparare o meno via 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 ti ho detto via no stai qua via via vattene all'ifron dove ah ok allora ce n'è ce n'è uno qua e uno qua almeno ma i miei sono diventati più bravi per cui nell'1v1 riescono tutti abbastanza a non avere problemi ah uno è così da giù ah scappa e scappa vai via vai via vai via no vai qua ok è andata con pochi danni al nostro scafo buono così molto pochi danni possiamo farne anche una seconda farei due poi tappa a ripristinarci e le ultime due che sono una più kraken immagino qua facciamo anche picchiare questa ok stesso discorso prima facciamo tutto sul distruggere lo scafo il prima possibile quindi tu qua tu qua tu vele tu vai a dare una mano qua spende poi anche da che tipo di armi hanno loro perché alcune mettono molto più in difficoltà che non altre vedete una mano ripara 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 come già gli alifron ok allora uno è qua e ci vai tu cavolo sono tutti qua in fondo cavolo cosa ci sta rimettendo le penne magari l'abbiamo salvato il pelo allora tu vai qua tu no dai please vedete qua please così ci fate la fare niente oh oh il capitano no non per terra please dai che sono giù dai che sono giù dai che sono giù ok ok ci abbiamo fatto andate solo 30 siete pezzenti niente lo facciamo adesso adesso che andarcene via a riparare la nave e torneremo qua la prossima volta solo quando cosa ho cliccato non voglio non voglio cliccare quello torneremo 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 qua la prossima volta quando avremo da affrontare l'ultima nave cultista e poi il kraken non nesso quindi direi che possiamo anche salutarci nel mentre io vi invito a lasciare un piace e scrivervi se per caso non l'avete già fatto e lasciare un commento qua sotto io vi auguro una buona giornata ciao a tutti grazie